scontro autoscooter a intra, un ferito grave, arriva all'elisocorso, è di almeno un ferito con traumi di elevata gravità il bilancio dell'incidente stradale avvenuto attorno alle 16 di oggi in corso Cairoli, a Verbania, all'altezza dell'ex rimessa delle Corriere, di fronte ai News 24, la tua nuova tv locale Grazie